L'amministrazione comunale di Carmignano di Brenta ha concesso l'ex casa di ricovero di Viale Europa per il progetto di sanità sociale che consiste nel primo ambulatorio sociale del Veneto. Si tratta di una realtà sanitaria del privato sociale senza scopo di lucro convenzionata con l'ente locale e nella quale vengono erogati servizi sanitari a costi contenuti per far fronte all'ormai endemico taglio delle spese applicato alle famiglie per le cure mediche. Verrà dedicata a chi effettivamente ne ha bisogno, servirà la prescrizione del proprio medico di medicina generale legato a una relazione dell'assistente sociale perché devono essere comunque refertate, devono essere delle persone conosciute e che sia effettivamente certificato che hanno questa necessità. Il 5% del ricavato della struttura a partire da un minimo di 15 mila euro all'anno servirà proprio per mettere a disposizione delle famiglie seguite dai servizi sociali prestazioni con una serie di agevolazioni economiche fino alla gratuità. Con questa convenzione riusciamo a dare risposte concrete sul tema della salute ai nostri concittadini. Non solo garantiremo le scontistiche del 25% su tutte le prestazioni ma anche garantiremo i servizi quali lo psicologo di famiglia e gli infermieri di famiglia. Inoltre programmeremo tutta una serie di giornate dedicate allo screening e alla prevenzione gratuite per tutti i nostri concittadini.